Sono in netto aumento i casi di positività al Covid-19 in diversi comuni agrigentini, secondo quanto riporta l'ultimo bollettino dell'ASP di Agrigento. In tutta la provincia sono 119 i contagiati presenti nel report riferito alla giornata di ieri, su un totale di 333 tamponi processati, con un tasso di positività che si attesta dunque al 35,7%. Salgono anche i ricoveri al Fratelli Parlapiano di Ribera, che attualmente ospita 23 soggetti affetti dal Covid-19 in terapia intensiva. Sono stati inseriti in tabella inoltre anche i tre decessi di cui già si era conoscenza. Le uniche buone notizie riguardano Sciacca, che scende da 27 soggetti positivi a 24. Naro, da 27, passa a 26 casi e Palma di Montechiaro, che contro i guariti, passa da 93 a 90 contagiati. In rialzo i contagi rispetto al giorno precedente nella maggior parte dei comuni della provincia, a partire da Agrigento, dove ad oggi i positivi sono 89, 12 ad Aragona. Caltabellotta alza ancora la cifra dei contagiati e da 79 passa a 83. Cammarata conta 35 positivi, Campobello di Licata 12, Canigatti 25, Casteltermini 6. A Favara la situazione si fa ancora più critica, con un incremento di 10 positivi, arrivando a quota 238. Incrementa i casi anche Porto Empedocle, con 91 contagi. A Raffadali i positivi sono 30, a Ravanusa 25, a Realmonte 13, Ribera passa da 4 a 6 soggetti contagiati. In rialzo i dati anche a San Giovanni Gemini, con 37 positivi, mentre Santa Elisabetta non è più Covid-free, con un caso riscontrato. 64, infine, positivi presenti sulle navi di accoglienza dei migranti. Passando, infine, ai dati regionali, in Sicilia sono 436 nuovi casi di Covid-19 riportati nel bollettino di ieri, a fronte di 11.375 tamponi processati nell'isola. L'incidenza crolla fino al 3,8%, allineandosi quasi alla media nazionale e attestandosi al quarto posto per i nuovi contagi giornalieri in Italia, dietro Veneto, Lombardia e Lazio. Gli attuali positivi sono 8.508. I guariti sono 289 e 6 le nuove vittime. Sul fronte ospedaliero sono adesso 264 ricoverati in degenza ordinaria e 30 in terapia intensiva. Sul fronte del contagio nelle singole province, Agrigento conta 120 casi, Catania 76, Messina 63, Caltanissetta 56, Trapani 55, Palermo 39, Siracusa 14, Enna 11 e Ragusa 2.